No, aspetta, prendo il tuo braccio, rimani così, rimani come era, rimani come era, vedi, ti prendo, vedi, hop, hop, e non voglio permettere che tu vai a prendere la mia schiena, lo stesso fai queste cose, però devi schiacciare con il vomito tra lì, calzati, calzati un po', si, puoi fare questa cosa, lui libera i bracci e tu continua ad andare indietro, schiena, si, vedete, hop, vai, ah, si, dall'altra parte, ah, si, però questo più, aspetta, più vicino, più vicino, aumento, si, a colonna vertebrale e un pochino qua, vedi, tu mi attacchi, hop, si, io devo, hop, mi girare, e andare, andiamo qui, qui, ah, così, vai avanti, senti, cosa, una cosa, si, dai dall'altra parte, si, attacco la mia braccia, oh, vedi, da qui un po', è difficile, si, perché tu scassi, copro, io invece, hop, vedi, vado, vado da qui, ah, lo sento, si, via, se ne ciò, vedi, qua, si, ogni tanto, sai, metti in quattro giampe, si, vedi, io voglio passare, se tu non mi fermi, vedi, si, si, proprio da qui, vedi, ah, ok, ok, va bene, così, ah, eh, eh, vedi, però qua devi, devi usare, non, cento per cento di casi, puoi usare, ma qua, se ci serve, devi battere subito, perché se no, se ti spassi, si, io, vedi, io si attacco, vai, invece tu poi, piano, piano, devi passare alla mia schiena, però non ti permette questo braccio, e poi trasformi in questa preza, provo anche, provo pari a questa preza, no, 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 no ma se mi tieni duro, come vedi? no, 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 tu basta che mi attacchi colo e braccia da solo ci sconete perchè io sentiro questa rotazione e braccia da solo perchè tu mi vedi il suo gomito sarà colo già qui, qui, qui qui, qui qui, qui oh, oh, vedi cosa stai con la rotazione? vedi con la rotazione, oh ok, vedi? questo devi fare questo devi fare attaccare colo funziona perchè vedi, attacca i miei bracci tu, grande, hop, no, no, di solito così così, e io metti in ginocchio vedi, io voglio passare vedi, io voglio passare questa braccia, però non so come passare, unica variante questo, unire miei braccia è vero hai capito? vado solo perché basta che io inserisco una braccia o così, o così 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 o così anche così in realtà poi anche così metri dipende come, basta che metti sopra la testa in questo vai, vai, vai vedi io voglio passare però non posso vedi, hop io sono qui o così io lo faccio vedi, testa così e lui ti lascia io ti trovo questo momento in internet con la ruta l'ora imparano questo deve attacare e chiarire bene, però questa situazione non mi interessa perché tecnica non abbastanza faç se attacano se tu deve tolleri gambe ok 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 bravo